Buongiorno, ho avuto la decorazione in realtà, no? No, non mi va arrivare, però mi l'hanno accettato. Perché c'è giusto per me, dopo 3 di 20 anni, mi danno i 20 per cento. E per un menù sanitario non è pronto, non è accettato. Per sempre, non sono un'immaginante. Alla prossima, ma non è accettato. No, non la è accettato. Alla prossima, vediamo... Ora, vediamo... ...iste ancora a la 44 ore. È iniziato. Nel ora, vediamo... ma secondo te non si vengono lavorati? c'è un treno? sì ma se motivo che non si vengono in più c'è una formazione buongiorno, benvenuti a bordo del treno 2357 il treno fermerà a Cassino, Denafro, Isernia, Calpilone, Voliano, Vinchiaturo e arriverà a Campobasso alle ore 16 e 33 Trenitalia vi augura buon viaggio buongiorno, benvenuti a bordo del treno 2357, il treno il treno è in Cassino, Denafro, Isernia, Calpilone, Voliano, Vinchiaturo e arriverà a Campobasso a 16 e 33 Trenitalia vi augura buon viaggio a buon viaggio e poi da 6 euro no, solo 3 euro un po' e quindi 13 euro e allora contiamo già 13 euro 13 euro quindi in minuti e 3 giga ma che c'hai adesso? ma poi è andato a prendere sempre il treno e l'ho mandato io e poi è andato a prendere il treno grazie